Nasce a Sciacca la Federazione Informativa Medico-Sanitaria Italiana, un ente di promozione sociale di informazione su tematiche medico-sanitarie che si propone di offrire a medici e pazienti tutta una serie di servizi che vanno dall'informazione alla formazione. La presentazione è avvenuta sabato scorso in occasione della Giornata Mondiale della Sanità nell'ambito di una iniziativa patrocinata dall'ASPE di Agrigento. È importante che ci sia questa correlazione tra il distretto, tra l'azienda sanitaria provinciale e quindi il Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti che si vogliono aggregare per partecipare a promuovere quelli che sono degli stili di vita e quindi portare avanti dei temi che riguardano principalmente la prevenzione e quindi degli stili di salute che hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione. Giornata Mondiale della Sanità che ha voluto ancora una volta focalizzare l'attenzione sull'importanza di un corretto stile di vita a cominciare da una sana e corretta alimentazione laddove è stato ampiamente dimostrato ormai che mangiare bene significa stare meglio. C'è necessità di riappropriarci della nostra dieta mediterranea perché il 10% della popolazione italiana e siciliana, anche i dati lo confermano, è obesa e dal 36 al 42% è in sovrappeso. Quindi c'è la necessità di sconvolgere tutti quelli, abbandonare quelli che sono stati i messaggi dei mass media che ci propongono cibi molto raffinati, molto zuccherati, bevande gassate e riappropriarci di tutto ciò che è cibo a chilometro zero. C'è tutto ciò che la nostra produzione, la nostra cultura ci propone. Quindi riscoprire la dieta mediterranea significa olio d'oliva, significa cereali, significa il nostro pesce azzurro, però di tutto questo parleranno altri. La dieta mediterranea è daita dal greco che significa stile di vita. Dobbiamo riappropriarci di questo nuovo stile di vita e soprattutto passare dal concetto della gastronomia al concetto di gastrosofia, cioè dove c'è sapienza, amore per il cibo. Il cibo non deve essere solo un alimento per sopravvivere, ma deve essere qualcosa che ci fa star bene, che ci dà felicità, che ci dà gioia, che ci dà amore. Ecco, solo così possiamo forse cambiare il nostro stile di vita. Dieta mediterranea contenuta in un libro presentato anch'esso sabato scorso durante l'iniziativa che si è svolta all'ex convento di San Francesco e che rientra nei servizi e nelle attività offerte dalla Federazione. Si intitola La dieta assolutamente siciliana ed è un progetto che vuole rappresentare anche il recupero delle identità culturali e delle antiche tradizioni alimentari della Sicilia, scritto dai dottori Salvatore e Gianluca Loforte, ma alla cui stesura hanno lavorato e collaborato anche altri medici. La dieta mediterranea è indispensabile per la sana alimentazione. Questo qua in pratica si specchia le vecchie tradizioni che abbiamo perso dai nostri nonni, dai versiavi, che sono salutati e indispensabili per la nostra salute. E noi abbiamo voluto, appunto, in questo libro fare un riassunto di tutte queste dicette che sono andate perse. Questa è la prevenzione primaria dove noi siamo impegnatissimi come medici e nella fattispecie come medici di medicina generale. È la cosiddetta prevenzione primaria che noi dobbiamo fare perché, come dicevo, le donne siciliane sono quelle che hanno un indice di massa corporeo più alto, superiore a 25, hanno un girovita superiore a 88, quindi sono obese e sono sedentarie. Quindi bisogna stimolare questi stili di vita proponendo e fortificando sempre di più nella cultura, nell'immaginario della popolazione che alimentarsi bene significa vivere bene.